L'avviso per la distanza di sicurezza è una funzione che segnala al conducente l'intervallo temporale tra il suo veicolo e quello antistante, in modo da consentirgli di rispettare le distanze di sicurezza. Questa funzione non è disponibile quando è attivato il regolatore di velocità adattabile, poiché è già prevista dalle relative funzioni. È possibile attivare il sistema dallo schermo multifunzione. Grazie